Ragazzi non vi sento per piacere, fate un 1 quando faccio un 1, fate un 1! Così mi piacere! Adesso facciamo una canzone letta! Tutti i ragazzi devono abbracciare le ragazze! Una nara ragazza può abbracciare un altro ragazzo, va benissimo! Non sia se perciò un altro ragazzo, applazzato! Dunque, rivediamo che lui è sempre a testa del portone e che ci sono qualche parole! Noi andiamo di qualche parone, per questo è la sua portone! E che dico a tutte le scataste presenti! Grazie! Grazie! Sono un partito! Sì o uomo di noi! Voglio essere quello! Donni ancora ragazzi! You come? Non hai ragazzi! C'è io! Ho scoputo, c'è lui! Noi havia, non ho scoputo! Non nani haко capito! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti